Comunicare in modo consapevole per stabilire relazioni autentiche tra le persone, ma anche per costruire un confronto più chiaro con il potere. E questo è il filo conduttore del nuovo saggio di Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della regione Campania e docenti all'Università su Rorsola, bene in casa. Il volume intitolato Comunico dunque sono è stato pubblicato da guida editori e presentato a Napoli nella Sala degli Specchi dell'Università Pegaso. Ma sentiamo l'autore Samuele Ciambriello. Io penso che dentro la comunicazione tante volte il potere si legittima, con la comunicazione nascono nuovi partiti politici e nuovi movimenti. In questo senso io ritengo che questo secondo saggio sia un passo in avanti per dare uno strumento in mano alle persone. Questo è uno strumento per operatori, per educatori, per studenti, per giornalisti, per andare oltre l'autoreferenzialità della stessa comunicazione. Presente all'evento anche il noto scrittore Maurizio De Giovanni. Ascoltiamo. Le parole sono tutto. Carlo Levi diceva che le parole sono pietre. Con le pietre si costruisce e si ferisce. Le parole sono fondamentali, sono importanti. La massificazione sta portando a una riduzione dei significati o a un'alterazione dei significati che è ancora più grave. Credo che il recupero delle parole sia uno degli aspetti necessari per arrivare a un'affermazione della civiltà.